Beh, io questo video non lo volevo fare, come dicono gli youtuber quelli bravi. Ciao ragazzi, buon lunedì a tutti. No, nel senso non lo volevo fare così in fretta, così presto, a quest'ora qui. Mi aspettavo di portarvelo nel primo pomeriggio, dato che comunque la sentenza era intorno alle 10, pensavo che mi ero illuso io. Potessero essere aggiornamenti, magari nel primo pomeriggio, e invece le ultime indiscrezioni parlano di annuncio della nuova penalizzazione della Juventus in tarda serata o addirittura domani, perché comunque questa sera la Juventus giocherà una partita di Serie A. Quindi tanto vale parlare un attimino perché abbiamo delle novità, abbiamo un attimo di ripassino da fare a livello cronologico e abbiamo da aspettarci qualcosina. Intanto, vabbè, ragazzi, io lo dico credo dal giorno zero, quella di oggi sarà l'ennesima sentenza politica, perché non venitemi a dire che quello che stiamo vedendo in questo momento è diritto o giustizia, perché siamo veramente molto, molto lontani da quei canoni. E attenzione, lo dico da subito, sarò noioso perché ho detto mille volte, eppure mi ritrovo sempre ai stessi commenti, quindi o la gente non ascolta o la gente scrive con le ditina sporche di marmellata sulla tastiera senza nemmeno aprire il video, apre soltanto per scrivere. Non è che qui si sta dicendo la Juve innocente, la Juve non ha sbagliato, la Juventus si piglia questi punti di penalizzazione, probabilmente perché qualcosa ha fatto e qualche punto di penalizzazione se lo merita. Poi il modo in cui viene gestito invece tutta la questione, beh, ragazzi, questo secondo me è abberrante. Non significa assolverla a Juventus da tutte le colpe dire queste cose qui. Sono due discorsi diversi e sono due discorsi che si possono incastrare. La Juventus può aver sbagliato e può essere punita, nonostante tutto quello che stiamo vedendo sia francamente abberrante, difficile da accettare e difficile ritrovare un senso di giustizia in quello a cui stiamo assistendo, perché cerchiamo di fare anche un attimino il punto della situazione, perché la Juventus è stata assolta ben due volte, aprile e maggio 2022, prima che arrivassero poi i risultati dell'indagine della procura di Torino, e quindi si è riaperto tutto e c'è stato un processo di revocazione. Attenzione perché la cosa importante da sottolineare è che sono stati prosciolti comunque tutti gli altri club che erano già stati prosciolti ad aprile e maggio 2022 e viene punita soltanto la Juventus. Ma questo lo sappiamo. La Juventus è rimasta l'unica delle squadre del filone plus Valenze, in cui appunto c'era già stata la soluzione, in cui poi si è decisi di andare avanti proprio perché erano emerse delle intercettazioni ambientali per quello che era il processo Prisma e quindi abbiamo utilizzato delle intercettazioni di un processo penale all'interno di un processo sportivo. E' già qui meraviglioso perché ovviamente quelle intercettazioni ambientali sono state prestate dalla procura a questo processo solo ed esclusivamente perché Juventus era quotata in borsa e come abbiamo detto mille volte non c'è un regolamento differente sportivo dalle squadre quotate in borsa a quelle no. Quindi ovviamente se dobbiamo inserire degli oggetti non sportivi all'interno di un processo sportivo e tra l'altro abbiamo detto mille volte anche cercando abbastanza di decontestualizzare il tutto secondo me siamo di fronte a una pagliacciata ma siamo ancora abbastanza distanti da quello che è il giorno d'oggi e ripeto non è che se considero questi elementi una pagliacciata significa che la Juventus non abbia sbagliato o non meriti una punizione. Non è assolutamente questo il punto. La prima richiesta da parte del procuratore Chinè è stata di 9 punti di penalizzazione alla Juventus. Sappiamo bene che invece dopo il processo sono stati attribuiti 15 punti di penalizzazione da parte della Corte federale d'appello. Quindi richiesta di meno 9, no, meno 9 sono troppo pochi bisogna darne 15. Ricorderete la frase di Chinè all'epoca la Juventus deve arrivare per forza di cose fuori dalla Champions e dietro a Roma perché se no non è una punizione afflittiva. Io ragazzi l'ho pubblicato anche l'altro giorno l'ho pubblicato anche prima sul canale l'articolo 8 del codice di giustizia sportiva perché nell'articolo 8 c'è scritto che le sanzioni devono essere commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi. Ok? E poi si parla di classifica che deve essere di punizione che deve essere afflittiva. Però non è che possiamo partire dall'afflittività e costruire qui la penalizzazione, la punizione. Perché, ripeto ancora una volta, deve essere commisurata alla natura e alla gravità dei fatti commessi. Anche perché, intendiamoci, se ci fosse stata una penalizzazione a inizio campionato con tutte le squadre a 0 punti quale sarebbe stata una penalizzazione afflittiva? 30 punti nel dubbio? 40 punti nel dubbio? 50? 60? 100? 100? Come faceva Iva Zanicchi a Ok, il prese è giusto, facciamo girare la ruota e quello che viene fuori sono i punti di penalizzazione? Cioè, non si può partire dalla fine e cioè voler punire la Juve e quindi risalire il regolamento per cercare di trovare un incastro. Bisogna analizzare quello che è successo e in base a quello che è successo scorrere il regolamento, trovare il cavillo che è stato violato dalla Juventus che, ancora una volta, la terza volta nel video, non sono qui a dire che la Juventus sia innocente, se ha sbagliato o si scorre, bene, ha fatto questo, la punizione è questa. Non individuare la punizione e poi risalire la corrente come fanno i Salmoni. No, sono due cose completamente diverse. Quindi, richiesta di 9, attribuzione di 15. Ricorso al Coni, annullamento della penalizzazione, però un annullamento con rinvio proprio perché la penalizzazione non era stata motivata a dovere e quindi quei 15 punti erano stati ritenuti eccessivi. Passa del tempo, la Serie A va avanti, la Juventus in aprile implode su se stessa, a perdere i punti per strada e questo porta, al giorno d'oggi, a una classifica abbastanza strana, ma il 22 di maggio, con pure il processo, che deve attribuire la giusta penalizzazione alla Juventus. E quanto sarà questa giusta penalizzazione se 15 era ritenuto eccessivo e dando un'occhiata alla classifica di oggi e, secondo il principio di afflittività, come inteso da Chinè, bisognerebbe darne almeno 12. Almeno 12, se non 13, per essere veramente convinti che la Juve non possa andare a fare la Champions l'anno prossimo, perché se no ci sono degli incastri che magari possono concretizzarsi ed ecco qui, quindi chi neanche cosa fa se inizialmente ne aveva chiesti 9 ed erano stati attribuiti 15, ma 15 erano troppi, ora la nuova richiesta è di 11. Quindi i capi d'accusa sono gli stessi, cioè non è cambiato niente. L'unica cosa che è cambiata è stata la classifica, è stata la classifica, questa è l'unica cosa che è cambiata, che nel frattempo si è evoluta molto più a favore della Juventus che è seconda in classifica, quindi bisogna farle perdere il secondo posto, il terzo posto e il quarto posto. E ancora una volta ribadisco, se 15 erano troppi e devono essere almeno 12-13, partiamo da 11 che anche l'altra volta abbiamo aumentato e quindi magari abbiamo fatto tutto sto teatrino per togliere uno o due punti dai 15 che erano troppi e non motivati, quindi 15 sarebbero stati non motivati, 12-13 sì, c'è già il fatto che venga aumentata la richiesta da parte di Kine, ho letto una battuta ragazzi che non posso fare altro che riportare, sembra di giocare alla morra chinese, alla morra chinese, perché qui, ripeto, quarta volta, non si sta parlando di Juve colpevole innocente, a quanto pare la Juve colpevole viene punita, sono stati dei capi d'accusa, poi io ribadisco, leggendo il codice di giustizia sportiva per me la giusta punizione per quello che è stato contestato alla Juventus era una multa molto salata, perché c'è appunto un regolamento nel codice di giustizia sportiva che prevede una punizione se si vanno ad alterare i bilanci come ha fatto Juventus in questo caso con le plusvalenze bla bla bla. Si è inserito un discorso di non mi viene il termine di lealtà sportiva per via di un articolo 4 che è stato buttato dentro e l'abbiamo già detto mille volte c'è la norma specifica che è stata utilizzata una norma generale perché secondo l'accusa sono state ampliate alcune cose d'accordo va bene penalizzazione però ragazzi a me sembra di essere di fronte a una favola siamo di fronte a una favola non lo so mi pare veramente di sognare quando leggo certe cose perché io ve lo dico prima che esca la sentenza definitiva io mi aspetto almeno 12 punti di penalizzazione almeno 12 punti perché non possono mica rischiare qua che la Juventus poi possa con un incastro specifico arrivare comunque all'interno della Champions League dato che è chiaro sin dall'inizio la volontà è far arrivare la Juve fuori dalla Champions ma non è che lo dico io non è che lo dice la teoria del complotto cioè lo dice chi ne è che il procuratore federale che è l'accusa non lo dico io lo dice lui l'ha detto lui e ancora una volta il fatto che si aumentino questi punti di penalizzazione richiesti prima di andare davanti alla Corte significa che c'è questa volontà di punire la Juventus in maniera effettiva una penalizzazione che porta a qualcosa poi per quanto mi riguarda in realtà sportivamente è una penalizzazione anche passare dal secondo al quarto posto per dire cioè non c'è necessità per forza di cosa di far arrivare la Juventus al sesto settimo posto in classifica è questa la cosa che secondo me dà più fastidio di tutte la cosa che dà più fastidio di tutte in realtà è aver vissuto una stagione di questo tipo in cui è successa qualsiasi cosa si è dimessa la dirigenza dei casini in questo momento non si sa dove si sta andando per cosa si sta giocando che cosa si farà come si giocherà aver rovinato tutto quello che è stato la Juventus e qui un grazie veramente sentito ai dirigenti che hanno operato in Juventus in questi anni perché siamo passati veramente dalle stelle alle stalle quindi di errori ce ne sono stati e nessuno li nega e nessuno qua li ha mai negati basta ricoperarsi i video di due o tre anni fa su tutti gli errori della dirigenza della Juventus dato che spesso e volentieri mi si dice adesso ne parli di queste cose qui probabilmente la butto lì vi siete persi dei contenuti per strada succede senza bisogno sempre muoverle di tina per scrivere cose anche abbastanza spiacevoli da leggere quindi questo è undici richiesti quindici iniziali erano troppi nove richiesti sono diventati undici io ne sono convinto io davvero ne sono convinto viene dal profondo del mio cuore saranno dodici o tredici io sono davvero convinto che saranno dodici o tredici e tutto questo casino tutto questo rimandare tutta questa roba per questo ma guardate dalla procura devono ringraziare veramente la Juventus devono fare un grazie mettere le mani così e ringraziare perché in aprile abbiamo fatto schifo non abbiamo praticamente mai vinto abbiamo vinto una partita in serie A 1-0 con l'Ella Sverona terrificante il mese di aprile perché in quel momento quindici punti erano ritenuti eccessivi in quel momento lì se Juventus avesse vinto anche dentro il mese di aprile la classifica sarebbe stravolta totalmente e con quindici punti ritenuti eccessivi si sarebbero probabilmente tramutati in trenta punti ritenuti coerenti ritenuti congrui ritenuti giusti boh ragazzi a me sembra di essere nel paese dei balocchi e forse è anche un po' così ieri sera vi ho parlato di una situazione che secondo me è molto spiacevole per quanto riguarda quello che è accaduto al club di Sky e anche oggi vi parlo di una situazione che secondo me è decisamente sgradevole per quanto riguarda invece l'extracampo della Juve ci vediamo stasera dato che comunque si gioca sì stasera c'è Empoli Juve ci interessa abbiamo parlato un mucchio di Empoli Juve oggi abbiamo parlato tantissimo della formazione abbiamo parlato tantissimo del match dell'importanza del match e anche il fatto che magari esca domani sta cosa qui fa ridere fa ridere fa molto ridere il fatto che magari esca domani perché poi magari si sa mai che stasera si iniziano a fare dei conti quindi stasera bisogna vincere col Milan bisogna vincere con l'Udinese bisogna vincere e sperare che siano meno di 12 sperare che siano 10 11 9 una roba del genere sperare davvero che sia così perché poi alla fine magari la Juve arriva davvero in Champions allora voglio vedere che cosa si inventano sarebbe interessante capirlo